Oltre a lei, oggi qui sotto processo, ci sono anche alcuni suoi amici d'infanzia, di Ribeirao da Sneves. Sono stati accusati la sua ex moglie, la sua ex ragazza e molti suoi amici. Giura di dire la verità, tutta la verità e nient'altro che la verità? Lo giuro, signor giudice. È stato lei a salvare la vita a Bruninho? Signor giudice, né la vita di Bruninho né quella di Elisa sono mai state a rischio. C'ero io a occuparmi di loro. Ho chiesto a Elisa se fosse in pericolo o se avesse bisogno di qualcosa, ma mi ha detto di no. Mi ha chiesto solo di occuparmi del bambino per una settimana, tanto non beveva più il latte materno. Dicono tutti che ho rapito un bambino, che l'ho preso dalle braccia della madre, santo cielo! Ovviamente sono tutte bugie inventate dalle male lingue. Mi sono solo preso cura di quel bambino per sette giorni, come mi aveva chiesto lei. Mi ha detto che sarebbe tornata la settimana dopo a riprendersi il figlio. Alla prossima! Alla prossima!